Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda tra Calenzano e la variante di Valico per incidente. Segnalato, personale e su strada per lavori tra Chiusi Chianciano e Fabbro. Sul raccordo Siena-Firenze, fino al 14 settembre, scambio di carreggiata tra Poggi Buonzi e Colle Valdelsa Sud, scambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena, chiuso per lavori lo svincolo di Siena-Nord in direzione del raccordo Siena-Bettolle. Sulla statale Trevis-Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!